cari ascoltatori vi saluto calorosamente nel prezioso nome del nostro signore gesù cristo spero che nelle ultime trasmissioni siate stati benedetti dagli estratti del nostro sermone qui a krefeld e che abbiate afferrato il contesto per la grazia di dio il punto oggi è che godiamo nuovamente della presenza di dio dopo aver ricevuto le promesse della sua parola in aggeo capitolo 2 nei versetti 5 e 6 leggiamo secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'egitto il mio spirito è in mezzo a voi non temete così infatti parla il signore degli eserciti ancora una volta fra poco io farò tremare i cieli e la terra il mare e l'asciutto le promesse che dio fece al popolo di israele al tempo del loro esodo rimangono per sempre anche se nel contempo sono stati dispersi tra le nazioni a causa della loro disobbedienza e hanno dovuto attraversare molte difficoltà e miserie alla fine la misericordia di dio e la sua potenza saranno rivelati in loro e il nome del signore sarà glorificato sotto tutto il cielo perché egli ribalta il destino di sion e ha di nuovo misericordia del suo popolo israele la via della chiesa del nuovo testamento è simile essa ha avuto un inizio glorioso la potenza di dio si è manifestata non c'erano interpretazioni delle sacre scritture gli uomini di dio che fossero evangelisti apostoli o profeti erano tutti guidati dallo spirito santo e riconoscevano l'opera di dio nel loro tempo sulla base delle sacre scritture agli suoi discepoli il signor gesù disse voi sarete i miei testimoni non si tratta oggi di qualcuno che si freggia del titolo di predicatore o pastore o che pretende di essere un evangelista predicatori pastori ed evangelisti possono parlare di ciò che immaginano nella loro immaginazione spirituale ma quando il signor gesù disse ai suoi discepoli ma riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in gerusalemme e in tutta la giudea e samaria e fino all'estremità della terra c'è più in queste parole di quanto possiamo afferrare al momento un testimone è presente quando accade qualcosa i testimoni di gesù cristo sono presenti quando cristo il capo della chiesa e all'opera nella chiesa giovanni sull'isola di patmos fu trasportato nello spirito lungo il corso della chiesa del nuovo testamento egli vide gesù cristo come il figlio dell'uomo che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro tutti i veri figli di dio sono stati testimoni dell'opera dello spirito santo nel corso della chiesa del nuovo testamento ora che ho predicato la preziosa parola di dio in 49 nazioni della terra e ho fatto conoscere a molti migliaia di persone le promesse di dio per questo tempo sembra essere arrivati il momento in cui lo spirito santo sta operando in modo molto speciale in mezzo a noi in nessun altro posto al mondo ho sperimentato la presenza di dio l'attività dei doni dello spirito e l'opera dello spirito santo come qui nell'assemblea di krefeld vorrei solo che fosse concesso a voi tutti di partecipare a tali riunioni dove lo spirito santo determina e guida completamente il nostro pensiero il nostro parlare e il nostro agire abbiamo spesso parlato attraverso il messaggio del tempo della fine della restaurazione di tutto ciò che è stato perso nella chiesa del nuovo testamento ora è arrivato il momento della realizzazione non c'è più indugio dio di sé sia la luce e la luce fu dio ha detto io restaurerò e ha restaurato dio ha detto la mia parola non tornerà a vuoto ed essa ha compiuto ciò per cui egli l'ha mandata possiamo testimoniare dell'opera dello spirito santo in mezzo a noi che abbiamo sperimentato negli anni passati e specialmente nelle ultime settimane e mesi abbiamo sperimentato come un cantico in lingue è stato dato dallo spirito in un'altra lingua e poi l'interpretazione è venuta nella nostra lingua solo coloro che sono presenti conoscono e sperimentano il modo in cui la potenza di dio scorre attraverso tutti coloro che sono presenti è un'atmosfera santa alla presenza dell'onnipotente quando in queste ore si rivela la presenza diretta del signore e l'opera del suo santo spirito si predica ovunque che gesù cristo è presente ma appare ben diverso quando lui può essere realmente presente allora egli fa le stesse cose oggi come quando camminava sulla terra e come ha fatto all'inizio nella chiesa del nuovo testamento paolo scrive ai romani dei vasi d'onore e dei vasi di disonore ci sono vasi che ricevono le ricchezze della gloria di dio e tutta la sua misericordia in romani capitolo 9 versetto 23 leggiamo e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria il signore ci fa dire che i suoi vasi sono santi che i suoi vasi sono puri che sono preziosi entrano nel fuoco e sono purificati un compositore di un inno canta solo vasi maestro santo ma pieni della tua potenza all'inizio della chiesa del nuovo testamento questi vasi erano pieni della potenza di dio la stessa cosa che è successa prima attraverso il ministero di gesù cristo è avvenuta da allora in poi attraverso i membri del suo corpo che erano subordinati a lui il capo quando ci riuniamo per l'adorazione ci mettiamo a sua disposizione come suoi vasi egli ci purifica e ci santifica e ci rende idonei al suo servizio in una profezia il signore ci ha detto le seguenti parole ecco così dice il signore popolo mio in verità siete voi che avete sentito il messaggio dell'aquila siete voi che avete udito la parola degli angeli il mio vangelo eterno che era prima della fondazione del mondo ed ecco voi siete il popolo voi siete il gregge che vedrà quando la pietra della vetta sarà posta arriverete al compimento e vedrete la mia opera compiuta vedrete il compimento di tutto perché voi siete la mia sposa eletta perciò avvicinatevi perché qui c'è il monte santo la città di dio aprite la vostra bocca e lodatemi perché io sto per fare grandi cose in mezzo a voi e voi siete lì per lodarmi per accrescere la mia gloria e riceverete la potenza dello spirito santo così dice il santo in mezzo a voi che vi ha benedetto e reso felici e vi ha scelto per vedere la fine il compimento della sposa quando leggiamo nell'apocalisse troviamo la descrizione di varie cose che ci possono essere mostrate nel contesto solo tramite rivelazione divina nel capitolo 4 leggiamo di quattro creature viventi che sono davanti al trono la prima assomigliava a un leone la seconda a un vitello la terza aveva un volto umano e la quarta assomigliava a un'aquila volante ne abbiamo già parlato in una delle trasmissioni nel capitolo 14 versetto 6 leggiamo poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo ciò che è stato mostrato qui in cielo sta avendo luogo sulla terra perché il vangelo eterno viene proclamato a tutti i popoli e a tutte le lingue il punto è che in questo tempo ascoltiamo la parola di Dio come ci è stata lasciata in eredità come vangelo eterno in ebrei capitolo 12 leggiamo della città del Dio vivente la Gerusalemme celeste della chiesa dei primogeniti scritti nel cielo qui non possiamo approfondire il contesto cari fratelli e sorelle che lo Spirito Santo mostri a ciascuno di voi ciò che è importante il Signore ha una sposa eletta anche in questo tempo che vedrà la sua opera compiuta nella perfezione con sincerità veniamo al trono della grazia sapendo che Dio ci ha aiutati nel giorno della salvezza Egli ha già fatto grandi cose in mezzo a noi e per migliaia di persone non ci resta che lodarlo e accrescere la sua gloria Lui stesso ha dato la promessa di equipaggiarci con la potenza dello Spirito Santo che tutti possano essere afferrati nella parola di Dio rivelata e nell'opera dello Spirito Santo essere inseriti nel corpo di Gesù Cristo ricevere la potenza dello Spirito Santo e partecipare al completamento dell'opera compiuta in questo tempo Preghiamo Padre Celeste c'è molto di più da dire sulla tua opera in questo tempo Ti siamo grati perché ti degni di parlarci e di far conoscere la tua volontà e di operare in mezzo a noi attraverso il tuo Santo Spirito Dio fedele che la tua gloria sia cresciuta e che il completamento della tua opera avvenga presto Tu stesso tu stesso sei la pietra angolare e anche la pietra della vetta noi guardiamo a te autore compitore della nostra fede dona la grazia a tutti coloro che ora hanno ascoltato la tua parola e afferrali con la potenza del tuo Santo Spirito ti ringrazio per questo nel nome di Gesù Amen di Gesù di Gesù di Gesù Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.